Una Toscana che si muove sia su ferro che su gomma, una Toscana all'avanguardia in fatto di trasporti e infrastrutture, una Toscana impegnata per connettersi sia con il resto del paese che con i grandi corridoi europei. È questa l'immagine della nostra regione che esce dalla due giorni dedicata alla mobilità, ai trasporti e alle infrastrutture promossa dalla regione a cui hanno preso parte i rappresentanti del governo, degli enti locali, dell'autorità portuale, delle aziende come RFI e Trenitalia. Per due giorni nell'auditorium di Santa Pollonia a Firenze si è parlato di innovazione e di servizi legati ai trasporti, dal futuro dell'autostrada tirrenica alla viabilità ciclabile, dalla gara adesso al vaglio della Corte Europea per il TPL regionale alla Darsena Europa fino allo scalo di Piombino, dalla tramvia di Firenze, dalla TAV al porto passando per il Pisa Mover. I rappresentanti ai massimi livelli di autostrade, di ANAS, di RFI, di Trenitalia, l'autorità portuale di sistema di Livorno e Piombino ci hanno detto che sono in fase di realizzazione o sono in programmazione ma con importi quasi totalmente coperti interventi nei prossimi anni per circa 10 miliardi di investimenti. Questo significa che le infrastrutture che verranno realizzate o migliorate o qualificate, si parla delle terze corsie, si parla della tirrenica, si parla della terza corsia per quanto riguarda la Firenze mare, si parla del sottattraversamento dell'alta velocità di Firenze, delle strade regionali, degli investimenti sui porti, sono infrastrutture che si realizzeranno e che miglioreranno questa possibilità di una mobilità più semplice, più funzionale, più efficiente, più sostenibile ma significano anche sviluppo, significano posti di lavoro, significano un grande impatto e un grande beneficio per quanto riguarda il PIL della Toscana. Una Toscana quindi che ha pienamente messo in atto la cosiddetta cura del ferro investendo in infrastrutture, in tecnologie, mettendo a disposizione un know-how e delle competenze che ne fanno una best practice in Europa, tanto che il vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli, chiamato a tenere l'intervento conclusivo del convegno, ha invitato l'assessore Ceccarelli a portare l'esempio della Toscana a Bruxelles. E' una delle regioni più attive nel campo dei trasporti, la Toscana ha molti progetti, molti investimenti ed è bene che in Europa si conosca tutto questo anche per stringere alleanze, per dimostrare che il nostro paese sta superando tanti gap del passato e questo fa bene alla Toscana e fa bene all'Italia. Tirando le somme, il convegno dedicato al PRIM, il piano regionale integrato della mobilità e trasporti, è stato la conferma che nella nostra regione la mobilità è una priorità, conferma data anche dalla sala gremita per la giornata conclusiva dell'iniziativa che è stata seguita con partecipazione anche dalla community attraverso i canali social di Muoversi in Toscana, canale ufficiale della mobilità in regione.